Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro e Goreltanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta su Minecraft dove vi presenterò la mia famiglia Trash Non vedrete il microfono per immedesimarvi di più nella storia ma non perdiamoci in ciance e iniziamo subito Eccoci qua Quello con la macchina è mio fratello Andrea Bella raga! Sono tornato Dove eri andato? A le martinette! Ah, ti vedo felice, com'è andata? Ho vinto a 30 euro Ah, sono contento, dai Allora ci vediamo a casa Ora vi presento mia madre Mamma? Mamma? Oh, mamma! 118! Ma che ho fatto il 118? Sono del porticato Ma no, tranquilla, era solo perché non mi rispondevi Ma no, ma non volevo farti male Ma sei drogato? Ma ti sembra? Oh, ma che domande fai? Scusatela, ogni tanto se ne esce con queste domande ed è fuori entrata in casa Dai, andiamo da mio padre Ciao, pa Bissianobulos Bissan... Ma che cazzo dici? Non dire la roaccia No, chiamo la polizia Sì, vabbè Eh, va bene Ciao, eh Anche te Guarda che sono un branco di matti la mia famiglia Andiamo da mio fratello Questo è mio fratello Ciao, Marco Come sei? T'ho bello? Sì, grazie E invece questo è il suo cane Antonio Saluta, noni Ma non saluta? Eh, niente Vabbè, dai Sarà per la prossima volta Questa era la mia famiglia Spero che vi sia piaciuta Puttani i frati Mia madre ci ha chiamati per andare a mangiare Ci vediamo Ciao